Una panchina gialla gigante dalla quale poter ammirare il magnifico panorama sulla valle di Castiglion Fibocchi è stata infatti installata nel cuore del paese sulla terrazza naturale nella zona di San Quirico, la Big Bench. Quest'idea nasce da un viaggio fatto a Limone Piemonte dove era stata installata la numero 9 perché in tutta Italia sono 110 e questa è la 111esima installazione in tutta Italia 3 in Toscana e questa è la terza. È un progetto nato da un artista americano, un designer famoso americano, Chris che ha fondato la community della Big Bench Community Project. È un progetto che prevede l'installazione di queste grandi panchine fuori scala, vengono definite, fuori misura, per tornare un po' bambini tutti noi quando ci sediamo sopra perché viene sicuramente un sorriso guardando un panorama mozzafiato, un panorama spettacolare. Il nostro centro storico di Castiglion Fibocchi, in lontananza il nucleo di Arezzo, la cattedrale, Ponte Buriano e tutta la vallata retina, il val d'arno e in lontananza tutti i monti che ci circondano. Quindi è stato un luogo fantastico per tutti noi, viene definito il luogo del nostro cuore che rappresenta un posto fondamentale per noi castiglionesi. Insomma, Castiglion Fibocchi guarda il futuro dall'alto della sua maxipanchina che troneggia nel posto del cuore. Siamo molto vicino alla chiesa storica di Castiglion Fibocchi, alla cornice fondamentale della nostra comunità che è la chiesa San Quirico Alfiano, che è qui sopra noi. Ci rimane qualche resto appunto della nostra chiesa ma è una cornice fantastica dove abbiamo voluto portare l'innovazione che è appunto l'installazione di una panchina gigante fuori scala all'interno di un territorio fantastico.